Lore, mi vedi l'inquadratura? col volo guardando il spettacolo sulla nostra... destra No, sta a fare il video Come sta? Vabbè, e no, ma tu non devi vedere il casco, l'ora è Devi vedere Ma io sto Parallelo all'asfalto La devo abbassare ancora? Questo considera che è super view, quindi Ma perché non vi mettete la radio, per Dio? Ma chi è che si è staccato? Almeno uno che si stacca Ma questi sono staccati? Wow, le macchine d'epoca Quella Hai visto quella, hai visto la GoPro? Hai salutato? Mi devo già sentire la foto calda Eh, ma mi devo togliere lo smanicato Ma non mi dici già che fa paura? Eh sì Golfo ti sorriendo È bello, eh? Surriendo Lì dove il mare luce La piaaaare del vento Con il mare di surriendo Va bene A te lì che cazzo te l'ho detto Te l'ho detto la più piano A te e il piano A te e il piano Vaffanculo a te e il piano Vaffanculo a te e il piano A guà il limone, a guà Dai, non sarei che torniamo qua, sono tutto al 3-4% Dipende sempre da come ne fai Eccolo, eccolo Vai, 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 vai Vai avanti a me No, vai, vai Allora mi devi dire tu però Do me, eh? Quante pulsazioni hai? 120 Eh, devi andare a 110 Ahahahah Come ho sentito l'uomo? Sono l'uomo E io sono a 140 Eh Vabbè, ora ho aumentato un po' Dai, dai, dai Adetti sui 120 Vediamo Vedi, sapi che quando tu sei a 120 io sono a 140 5 anni fa è il contrario Eh, bravo Mega Geschi Non c'è E lasuta Se ragazzi Avicini Quora Sì, guarda l'amore. Sì 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu devi chiedere solo se ci sto io. Ma io a te ti sento. Vai qua. 145, così ti regoli. Va bene. Ma quanto devi stare? Dove? 160. 840. Ok. Dai che è finita la salita. Non vede il cazzo. Da 137 in su e già a giornata 4. Va bene. Non posso fare tutti i scorsi in zona 4. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sì, non so più io Grazie a tutti.